Ciao ragazzi e bentornati in questo video qui a Jabez, oggi siamo di nuovo qui ragazzi in un nuovo video, siamo appunto qui nel Jabez, commentare il post partita delle partite che si sono giocate questo pomeriggio alle ore 15, appunto Atalanta-Juventus che finisce 1-0 per l'Atalanta con la rete di Malinowski e Lazio-Benevento che finisce appunto 5-3 per la Lazio e niente ragazzi, la partita costa prima di commentare alla partita, vi invito a lasciare un bel mi piace qui sotto scrivendomi e ovviamente commentatemi qui sotto e ditemi la vostra su questa giornata pazza perché veramente questa giornata c'è qualcosa dell'incredibile, i gol che ci sono stati questa settimana c'è dell'incredibile, veramente assurdo, preparatevi per domani, domani ci sarà un mega video ultra sfogo del fantacalcio, vi dico solamente questo, rimanete aggiornati sulla campanella, ma su tutti i fantacalcio ne faccio 4, diciamo 3 e mezzo tra virgolette, preparatevi che ci sarà un video sfogo contro tutti i fantacalcio, veramente, preparatevi, vi ricordo, vi ricordo ovviamente se vi va iscrivetevi al canale, mi raccomando e attivate la campanella per non perdere nessun mio nuovo video e appunto vi invito a seguirmi sui social che trovate il link qui sotto in descrizione, vi ricordo che più tardi uscirà il post partita della Roma, quindi campanella attiva e ovviamente stasera il post partita di Napoli, quindi di Napoli-Inter, vi aspetto ad entrambi gli appuntamenti. Parlando della partita inizierei con parlare della partita che ho seguito di più, ovvero il big match Atalanta-Juventus, diciamo che l'Atalanta, primo tempo la Juve ha fatto un buon primo tempo, è mancato forse un po' di concretezza nel primo tempo, perché ho visto un Dybala abbastanza attivo, Dybala e McKennie i più propositivi nel primo tempo, diciamo che la Juve ha attaccato molto sulle fasce, soprattutto nella fascia quella più debole, ovvero attaccava molto sulle fasce e quando arrivava però sul fondo la difesa di Atalanta è stata abbastanza solida, da quello che mi ricordo c'è stato un salvataggio di Jim City, non mi ricordo sul tiro di chi, sul tiro di Morata che aveva scavalcato Collini, c'è stato un salvataggio di Jim City, poi diverse volte la Juve ha avuto l'occasione di portarsi in vantaggio, però diciamo che Morata oggi non ha brillato particolarmente, si è mangiato un sacco di gol. Nel secondo tempo la partita si fa un po' più viva, nel primo tempo abbastanza, secondo me, sponda Juventus, l'Atalanta che più cerca di tenere botta, nel secondo tempo, secondo me, l'Atalanta prova a portarsi in vantaggio, a diverse occasioni anche l'Atalanta, mi viene in mente quella di Zapata che si mangia un gol al limite dell'aria e la tira fuori, oggi pure Zapata non ha fatto una gran partita. Poi se nello sbaglio, appunto, i cambi che ha fatto Casperini sono stati decisivi, ovvero l'entrata di... oggi Murial è stato uno di quelli che mi è piaciuto di meno, soprattutto non ha inciso proprio, oggi non era in partita Murial. Nel secondo tempo i cambi che ha fatto Casperini sono stati, appunto, netti, sono stati decisivi, perché con l'entrata di Ilicic e Marinoski hanno fatto la differenza, appunto, segna praticamente gli ultimi minuti all'ottantasettesimo Marinoski che c'avevo contro Alfantacaccio. Preparatevi per domani, video sfogo, non ce l'ho solo con Marinoski, che ce l'ho contro in due Fanta, ma ho subito gol assurdi, veramente gol assurdi e non vi spoilerò in questo video, ma vi vedrete domani nel video sfogo. Niente, segna Marinoski, appena entra Marinoski, entra praticamente al settantunesimo, c'è stato praticamente un tiro, c'è stato un calcio di punizione verso l'ottantesimo, più o meno, un calcio di punizione di Marinoski dove Shesny fa un buon intervento e la manda in calcio d'angolo, se non sbaglio, non mi ricordo, sì, mi pare sì, c'era l'intervento di Shesny che la manda in calcio d'angolo e poi dopo pochi minuti, quindi all'ottantasettesimo, passaggio di Ilicic, tiro da fuori aria di Marinoski, un bolide di Marinoski, i classici gol che fa Marinoski, un bolide da fuori aria, che in realtà Marinoski ce l'avevo io al Fanta Calcio, però l'ho scambiato, l'ho scambiato perché ero disperato e ora sta facendo tutti i gol adesso, veramente, dopo quando l'ho dato via, poi dice uno non si deve incavolare, che bisogna fare ragazzi, il Fanta Calcio è una malattia. E niente, segna appunto Marinoski con la deviazione netta secondo me di Aleksandro, quindi in teoria secondo me io avrei dato autogoll a Aleksandro, perché lì c'è stato, il tiro di Marinoski sarebbe andato tutto quanto sulla destra, c'è stata una deviazione netta di Aleksandro dove Gollini, dove Shesny non ci può arrivare praticamente, la deviazione di Aleksandro spiazza appunto, cambia la traiettoria del pallone e spiazza Shesny e finisce così, 1-0 per l'Atalanta. Non so, ditemi voi, secondo voi è risultato meritato, secondo me, diciamo complessivamente l'Atalanta ha giocato meglio nel secondo tempo, la Juventus meglio nel primo tempo, secondo me un pareggio sarebbe stato un risultato più giusto, però comunque l'Atalanta è stata più decisiva, diciamo così, perché la Juve ce l'ha avuta nelle sue occasioni e non l'ha sfruttata, oggi mancava anche Cristiano Ronaldo, quindi poche parole anche per Lazio Benevento, diciamo l'ho vista un po' a Mozzi che Bocconi, ho visto un po' i gol, qualcosa, diciamo non è che l'ho seguito e non è che l'ha seguito più l'Atalanta-Juventus, le reti appunto finisce 5-3, quindi tanti gol, il primo gol al 10 minuto autorete di De Paoli, poi passa a raddoppio la Lazio con gol di Ciruzzi e Immobile su assist di Milinkovic e Savic e appunto segna a corcia di distanze Marco Sau, appunto su assist di Roberto Insigne 2-1 per la Lazio, poi 3-1 per la Lazio, no, gol di Correa mi ero scordato sul calcio di rigore che Immobile lascia il rigore appunto a Correa, quindi 3-1 per la Lazio e poi nel primo tempo finisce 3-1 per la Lazio e poi al secondo tempo c'è l'autorete di Montipò, se non sbaglio non mi ricordo il tiro di chi è stato comunque c'è stato un tiro deviato da Montipò che praticamente fa una mezza cappella e se la butta dentro da solo e quindi 4-1 per la Lazio, poi se non sbaglio c'è stato il gol di La Padula che è stato annullato per fallo se non sbaglio, c'era stato il gol, quindi il Benevento che al secondo tempo reagisce perché non è che aveva giocato diciamo la difesa del Benevento oggi è stata abbastanza disastrosa, poi diciamo viene annullato un gol appunto alla Padula e poi praticamente c'è stato un rigore appunto sbagliato da Ciruzzi e Immobile quindi un altro rigore alla Lazio e lo sbaglia Ciruzzi e Immobile perché glielo para Montipò quindi una partita veramente strana, poi segna Viola sul calcio di rigore quindi ben 3 calci di rigore in una partita anzi 1, 2, 3 calci di rigore in una partita di cui uno è stato parato appunto e 2 autogol veramente un risultato assurdo e poi segna Glic all'85esimo quindi gol del 4-3 del Benevento quindi sembra un Benevento all'ultimo che ci prova in tutti i modi a cercarla di pareggiarla però nel finale appunto arriva il gol della Giusura al 96esimo gol di Ciruzzi e Immobile su Assess di Parolo quindi doppietta per Ciruzzi e Immobile che tra l'altro se avesse segnato rigore ne avrebbe fatti 3 oggi. Finisce 5-3 per la Lazio da legge diciamo i risultati delle altre partite di oggi il Milan che vince 2-1 col Genova, la Lazio che vince 5-3 col Benevento, la Juve che vince 1-0 con la Juventus il Bologna 4-1, mamma mia, quello a Spezia, il Bologna 4-1 con lo Spezia la classifica adesso vede la Lazio che si distacca dalla Roma, la Lazio che tra l'altro c'è una partita in meno da recuperare contro il Torino, quindi Lazio sesta a 58 punti momentaneamente, il Napoli a 59 punti e deve ancora giocare la Juventus quarta a 62 punti, l'Atalanta si conferma terza a 64 punti, il Milan che rimane in seconda a 66 punti e l'Inter che deve ancora giocare a 74 punti prima. Ditemela vostra qui sotto, speriamo che stasera noi vinciamo veramente, speriamo che in una vittoria della Roma miracolosa contro il Torino che ci avrà fame ci avrà veramente fame, non so quello che faremo, niente ragazzi è qui tutto e noi con il social ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi, sempre e comunque forza il calcio dai, maledetto fantacalcio, ciao